Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Nello scorso video di questa serie dedicata all'educazione finanziaria abbiamo parlato di cosa sia la moneta e in particolare di cosa sia la moneta legale che è quella che utilizziamo ed è in circolazione quotidianamente. Essa ha tre proprietà. È una unità di misura, in termini della quale esprimiamo i prezzi, è un mezzo di scambio e infine, ed è forse la cosa più importante per questo mese, è una riserva di valore e quindi possiamo risparmiarla. Ma il presupposto del risparmio è che ciò che metto via mantenga il proprio valore nel tempo, nel futuro. Se la moneta legale deriva il suo valore dalla autorità che la emette, quindi nel caso dell'euro la banca centrale europea, perché non ha valore intrinseco, chi mi garantisce che negli anni a venire tale valore sarà stabile? Se il valore della moneta diminuisce con il passare del tempo allora si ha inflazione, con cui purtroppo stiamo avendo fin troppo a che fare in questi ultimi anni. Ma anche l'opposto può accadere, cioè se con il passare del tempo la moneta aumenta il proprio valore, allora si parla di deflazione. Per capire come questa dinamica sia possibile dobbiamo ricordare che la moneta legale non ha alcun valore intrinseco, ma trae il proprio valore solamente in relazione alle cose che potenzialmente possiamo comprare scambiandole con tale moneta. Dico potenzialmente perché anche nel caso in cui la risparmiamo, la moneta, ci stiamo semplicemente mettendo in un'ottica in cui tale moneta noi o i nostri figli la spenderemo in futuro, perché penso che nessuno sia come Mazzarò nella roba di verga. E quindi ci interessa ovviamente sapere quante e quali cose potremo comprare un domani, cioè se il valore della moneta sarà stabile. Il concetto di potere d'acquisto traduce il fatto che il valore della moneta dipenda da cosa e da quanto possiamo comprare scambiandola e dunque dipenda dal prezzo dei beni e dei servizi. Il fatto che l'inflazione produca una perdita di potere d'acquisto o di valore della moneta significa più propriamente che i prezzi sono in aumento oppure i prezzi sono in diminuzione nel caso della deflazione. Le cause dell'inflazione non sono sempre chiare ed è proprio il compito e il lavoro degli economisti quello di studiare tali meccanismi e cercare di determinare le cause. Possiamo però dire in generale che si ha inflazione quando vi è una eccessiva quantità di moneta in circolazione o quando ci sono altri fattori che contribuiscano ad aumentare la domanda. E quindi se vi ricordate il primo video di questa serie quando la curva di domanda si sposta verso destra all'equilibrio con l'offerta si verificherà un aumento dei prezzi. Ci sono però anche cause di inflazione legate all'aumento dei costi di produzione come ad esempio l'aumento dei salari o l'aumento dei prezzi delle materie prime o dell'energia. Per calcolare l'inflazione si fa riferimento all'indice dei prezzi al consumo che in Italia viene calcolato dall'ISTAT e che corrisponde ad una media ponderata dei prezzi di beni e servizi inclusi in un certo paniere cioè un insieme di beni e servizi che potrebbero essere parte degli acquisti di un consumatore medio. La variazione di questo indice dei prezzi al consumo riflette appunto l'inflazione nel caso in cui cresca o la deflazione nel caso in cui diminuisca. Essendo una misura statistica ovviamente non è detto che noi ci riconosciamo in tale valore. Per esempio ad agosto di quest'anno, 2023, l'inflazione registrata rispetto all'anno precedente era del 5,4%. Alcuni di voi magari percepiranno di aver pagato prezzi molto più alti durante quest'ultimo anno rispetto al dato del 5,4%. Ma questo è dovuto ovviamente al fatto che avrete dei consumi diversi rispetto a quelli del consumatore medio secondo cui è calcolato l'indice dei prezzi al consumo. Spesso inoltre si differenzia l'inflazione da un altro dato che è quello dell'inflazione core o inflazione di fondo che è l'inflazione in cui nel paniere non vengono considerati i beni alimentari e i beni energetici che sono soggetti ad una maggiore variazione e quindi magari possono semplicemente riflettere una fluttuazione temporanea. A questo punto del video volevo parlare dei motivi per cui l'inflazione elevata sia un problema ma penso che le condizioni economiche in cui ci troviamo ci facciano capire già intuitivamente quale sia la portata del danno di un'inflazione tanto elevata. E questo danno è tanto maggiore per chi percepisce un reddito fisso perché appunto la quantità di denaro che riceve non può cambiare a fronte di una perdita del potere d'acquisto di tale moneta o anche perché in generale i salari crescono meno e molto più lentamente rispetto ai prezzi di beni e servizi. Inoltre l'inflazione incide anche sulle nostre scelte di investimento e di risparmio perché l'incognita sul valore futuro della moneta che può andare molto più giù ci può spingere a compiere delle scelte di spesa molto spesso irrazionali. Ma di come si debba risparmiare parlerò in un video più avanti. Quello che vorrei dire è anche però che il contrario dell'inflazione cioè la deflazione non è che sia tanto meglio in realtà. Se imprese e famiglie prevederanno che in futuro i prezzi scenderanno ancora ritarderanno alcune spese, alcuni investimenti rallentando ancora di più l'economia e contribuendo per esempio a una crescita della disoccupazione. In medio stat virtus quindi ed è per questo che l'obiettivo delle banche centrali in tutto il mondo è quello di controllare la stabilità dei prezzi. In realtà secondo gli economisti un piccolo livello di inflazione del 2% è quello considerato appropriato per un'economia sana e quindi in crescita. Il modo in cui le banche centrali agiscono per controllare il livello dell'inflazione o della deflazione è attraverso quella che viene chiamata la politica monetaria e si basa principalmente sull'azione di due leve i tassi di interesse e la moneta che viene effettivamente emessa. Per la seconda stiamo parlando della moneta stampata anche se in realtà tecnicamente quello che fa la banca centrale è comprare titoli di Stato. Nel caso della banca centrale europea in realtà per statuto può comprare titoli di Stato solamente sul mercato secondario per non influenzarne il prezzo sul mercato primario. La leva invece dei tassi di interesse è quella che viene più spesso adoperata e che abbiamo sentito essere stata adoperata moltissimo proprio in questi ultimi mesi avrete sentito ovviamente sui giornali di come siano incrementati moltissimo i tassi di interesse della banca centrale europea ebbene rappresentano i tassi di interesse a cui la banca centrale europea presta denaro ad altre banche e qui si riflettono poi sui tassi di interesse a cui le banche prestano denaro a famiglie e imprese e quindi anche a cui chi se lo può permettere paga un mutuo. Per parlare però di tassi di interesse dobbiamo introdurre il concetto di credito e di debito e questo lo faremo nel prossimo video. Per concludere quindi in questo video abbiamo imparato come l'inflazione non sia altro che un dato che esprime l'aumento dei prezzi di beni e servizi contenuti all'interno di un certo paniere quindi è una misura statistica ma anche ci dice molto su quale sia lo stato dell'economia è una sorta di termometro che indica come si stiano comportando famiglie, imprese e autorità statali e il compito della banca centrale in particolare della banca centrale europea è quello di garantire la stabilità dei prezzi assicurando un livello di inflazione che viene ritenuto sano al 2% e quindi questo era tutto quanto volevo dirvi in questo terzo episodio della serie dedicata all'educazione finanziaria come sempre come per tutti gli altri video vi aspetto nei commenti per domande o critiche e vi chiedo di condividere il video con i vostri amici con le vostre famiglie con chiunque pensiate possa ritenersene interessato io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video